buonasera carissimi fratelli e sorelle sto per fare questo video riguardo il quarto incontro di catechesi degli adulti che abbiamo avuto venerdì scorso purtroppo venerdì scorso appunto mi dimenticai di dare il via alla registrazione dell'incontro quando me ne sono ricordato ormai era quasi a metà incontro quindi la seconda parte dell'incontro l'ho registrata quindi per cui ho pensato che la prima parte che non è andata in registrazione la faccio ora successivamente ovviamente taglio alcune cose e cercherò di essere un po più anche stringato e veloce del solito quindi seguite il video ad esempio ora arriveremo subito alla lettura del testo durante la catechesi gliel'ho fatta subito leggere una prima volta di continuo qui vedrete vi dirò ci fermeremo un attimo per cui chi vuole leggere il testo di continuo interrompe la prosecuzione del video e poi la riprende per il momento allora io vi saluto e do inizio alla prima parte dell'incontro di catechesi di venerdì passato a vi ricordo che venerdì prossimo ci sarà il nuovo incontro di catechesi dopo scena alle 21 e 15 su questa scheda che io ho commentato del libro di amos che è la seconda scheda e allora buon ascolto ecco allora il quarto incontro verteva sulla scheda numero due che aveva il titolo il giudizio di dio sulla violenza delle nazioni e prende in esame i versetti dal capitolo 1 versetto 3 fino al capitolo 2 per sempre versetto 3 e quindi ci addentriamo subito nella spiegazione ovviamente all'incontro io ho sempre lo faccio sempre precedere da una piccola preghiera e questa volta questa piccola preghiera riguarda il diritto e la giustizia perché davvero possa diventare di questo mondo se la volete fare stoppate il video e fate la preghiera io vado avanti ecco questa volta conosceremo quei popoli che forse qualche volta avrete sicuramente sentito nominare leggendo la bibbia leggendo dei brani dell'antico testamento gli aramei gli amorrei i coabiti gli edomiti i filistei ecco forse a noi ci sono più famosi i fenici che lì non so come mai quassù chiama sidoni ma insomma qui e c'erano qui c'erano i fenici e fate la fenicia qua e poi sicuramente vi ricorderete i filistei perché l'episodio di davide che sconfigge il golia e c'è un po' nelle nostre menti conosceremo un po' questi popoli perché perché il profeta amus prima di prendersela con giuda e soprattutto con il regno del nord israele e vi ricordo no questa è la cartina dei due regni dopo il regno di salomone come già ho detto altre volte il popolo ebraico si divise in due regni il regno del nord ho chiamato anche israele il regno del sud chiamato anche giuda allora appunto dicevo che il profeta amus prima di prendersela con giuda e israele se la prende con tutti i popoli vicini e vedremo che questo ha un suo preciso significato da una parte amus non condanna ai popoli vicini per far emergere e per far vedere quanto sono bravi gli ebrei anzi ce ne saranno di più per gli ebrei ma se la prende anche con i popoli stranieri perché perché fondamentalmente ogni vuol di vorrà dimostrare che tutti hanno qualche cosa che non va bene nei confronti di dio e poi come vedremo nella spiegazione ci sono delle tragedie dei peccati delle cose così truci e cattive che non c'è bisogno dell'antico testamento o del nuovo testamento per farci capire che sono cose malvage che sono malvagità quindi l'uomo è capace di malvagità e quando ci sono delle malvagità entrano sotto il giudizio di dio anche se appartengono a popoli che non si che non seguivano i avè come e quindi non avevano la torà non avevano la bibbia allora andiamo avanti ecco ora mi cancello io perché tanto non c'è bisogno della mia immaginetta fa sopra ecco come dicevo ci sono questi oracoli contro questi popoli allora il primo popolo che noi troveremo è appunto il damasco e gli aramei che vedete nella cartina sono qua in alto a sinistra ora io nell'incontro come stavo dicendo prima ho fatto leggere una volta tutti questi oracoli per per leggerli tutti insieme prima di fermare la registrazione il video se voi volete leggere il conto vostro al due cosette vedete io questo primo oracolo l'ho colorato con diversi colori perché perché questi colori un po rappresentano lo schema che seguiranno anche tutti gli altri oracoli ogni oracolo inizierà sempre con la dizione così dice il signore e questo da autorità alle parole di amos poi sentirete sempre questa sorta di ritornello per tre misfatti di damasco e per quattro o meglio per tre misfatti di popolo in questione e per quattro non revocherò il mio decreto di condanna questo suona come un tragico ritornello e che ci fa capire due cose che prima di tutto è i misfatti non sono stati uno e basta qui viene ricordato un misfatto di questi popoli forse il più atroce il più grave ma quella dizione per tre misfatti e per quattro sta a dire che molto probabilmente di cose ce ne sarebbe state ci sarebbero state tante cose da dire riguardo il comportamento dei vari popoli e allora si usa questa dizione tra l'altro sembra anche questa dizione per tre misfatti e per quattro fosse anche un una maniera mnemonica per ricordarsi le cose non rivocherò il mio decreto di condanna questa è la triste sentenza come dicevo di dio nei confronti di tutti questi popoli e questo ci sta ci fa capire che le cose erano così gravi che oggi diremmo gridano vendetta al cospetto di dio che non si poteva tacere non si può non intervenire e dio non può non intervenire di fronte a simili misfatti poi ho messo in viola ecco il perché che ovviamente cambia da da popolo a popolo in questo caso dice amos perché hanno trebbiato galad con trebbie ferrate e qui come come dirò dopo e non si riferisce all'agricoltura purtroppo a cose ben più tristi altra costante di ogni oracolo ecco l'agire di dio manderò il fuoco io credo che sia stata scelta questa immagine del fuoco perché il fuoco è tremendo già anche ai nostri giorni talvolta è difficile spengere un incendio se ad esempio pensate quando prendono fuoco le foreste soprattutto d'estate anche oggi si fa fatica a spengere gli incendi nonostante le nostre tecniche nonostante i canadeire e compagnia bella il fuoco dall'idea di un supplizio che non si può fermare che non si può arrestare quindi la giustizia di dio non si può fermare nessuno potrà arrestarla poi si menzionano è i singoli diciamo responsabili che spesso e volentieri sono i capi dei popoli dei vari popoli perché il responsabile è sempre il capo del popolo e poi finisce questa questo ogni 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 oracolo finisce con la dizione dice il signore ecco a questo punto chi vuole leggersi tutti gli oracoli fino al capitolo 2 versetto 3 può fermare la registrazione e la riprende la riprende quando ha finito la lettura ecco chi mi segue allora intanto andiamo avanti questa faceva ecco ora possiamo riprendere ho messo questo brano dell'apocalisse non perché lo voglia commentare ma visto che in questo nell'ultimo periodo dell'anno liturgico ora siamo già in avvento ma nell'ultima settimana nell'ultime due settimane dell'anno liturgico alle messe feriali veniva letto il libro dell'apocalisse e così mi è balzato in mente la somiglianza che gli oracoli di amos hanno con quella parte del libro dell'apocalisse e al capitolo 2 quando il veggente scrive alle famose sette chiese le sette chiese dell'apocalisse ora io ne ho riportate uno tanto per esempio però notate la somiglianza all'angelo della chiesa che a pergamo scrivi così parla colui che alla spada affilata a due tagli so che abiti dove satana il suo trono tuttavia tu tieni saldo il mio nome e non hai rinnegato la mia fede neppure al tempo in cui antipa il mio fedele testimone fu messo a morte nella vostra città dimora di satana ma ho da rimproverati alcune cose presso di te ai seguaci della dottrina di bala il quale insegnava a balac a provocare la caduta dei figli di israele spingendoli a mangiare carni immolate agli idoli e ad abbandonarsi alla prostituzione così pure tu hai di quelli che seguono la dottrina dei nicolaiti convertiti dunque altrimenti verrò presto da te e combatterò contro di loro con la spada della mia bocca chi ha orecchi ascolti ciò che lo spirito dice alle chiese vedete anche qui nel libro dell'apocalisse ho messo i colori secondo lo schema di amos all'inizio c'è l'invito cioè scusate all'inizio c'è l'esposizione di chi è colui che parla appunto dio che dà sostegno tono a tutto il l'oracolo poi ecco il motivo della condanna che qui nell'apocalisse è molto più ampio vedete quanto la parte in violetto è più estesa poi l'eventuale condanna e ogni oracolo anche nell'apocalisse concluso da quella frase chi ha orecchi ascolti ciò che lo spirito dice alle chiese ecco la struttura che un po ho già evidenziato la struttura delle strofe sulle nazioni straniere appunto in apertura come vi ho già detto sia la formula del mittente che serve come legittimazione del mandato divino così dice il signore segue quella formula numerica progressiva sempre identica per i tre misfatti di e per i quattro segue la formula dell'irrevocabilità Yahweh dichiara che a causa della gravità della colpa gli è impossibile sospendere la pena non può fare altrimenti e non sarà influenzato da niente da nessuno arriva la menzione del reato specifico di ogni popolo che è la classica goccia che fa traboccare il vaso della pazienza divina e per lo più come vedrete e per quanto riguarda i popoli stranieri sono sempre crimini di guerra poi la comunicazione della pena in tutti i casi si dice che Yahweh manda il fuoco il fuoco non risparma niente e nessuno ecco un primo sguardo sintetico di quanto abbiamo visto fino ad ora allora è interessante notare che Amos parte subito a parlare dei misfatti dei popoli stranieri e questo non per mettere al contrario in risalto la bontà di israele ma per ribadire che anche se essi non sono soggetti alla legge della torà non vuol dire che non possono macchiarsi di peccati contro dio e l'umanità di cui debbano render conto esistono tipologie di peccato e di malvagità che vanno al di là delle varie religioni delle usanze e delle legislazioni dei singoli popoli oggi li chiamiamo appunto attentati ai diritti umani diritti che appartengono ad ogni individuo soltanto per il fatto di esistere si evidenziano comportamenti inaccettabili da ogni punto di vista e anche se posti nel contesto della brutalità di una guerra non possono avere giustificazioni alcuna e purtroppo questi problemi li abbiamo anche oggi nella cronaca di tutti i giorni e sono i cosiddetti crimini di guerra cioè ci sono delle cose anche all'interno appunto di una guerra dove purtroppo si 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 vedono uccisioni di soldati uso di armi che che uccide ferisce quindi al di là come ho scritto qui della già brutale guerra però ci sono dei gesti e degli atteggiamenti delle scelte che non hanno giustificazione neanche all'interno della brutalità della guerra sono quelli appunto che oggi vengono i cosiddetti crimini di guerra coerentemente dio considera principalmente colpevoli i capi dei popoli non l'intero popolo i palazzi sono visti come simbolo del potere politico e questo ci deve far riflettere i capi dei popoli hanno una grande responsabilità il fuoco rappresenta come dicevo prima l'inevitabilità della punizione divina contro la quale non si può far nulla per non subirla è il fuoco quando arriva arriva ecco allora fratelli rimettiamoci pallino ecco ecco allora fratelli siamo arrivati al punto nel quale poi ho dato inizio alla registrazione e quindi ora potete diciamo così seguire la la mia esposizione live della catechesi su questo brano allora damasco e gli aramei non so se sarà un caso però amos comincia proprio a parlare dagli aramei che insieme ai filistei forse sono stati i nemici storici degli ebrei le guerre con gli aramei sono come scritto lì sono durate più di un secolo e si sono esaurite proprio nel nell'epoca in cui amos scrive quindi intorno al 750 avanti cristo è stato il re di allora e geroboamo secondo a porre fine alle guerre con gli aramei a guarda caso anche oggi perché dove ci sono gli aramei su e sarebbe la siria dove ci sono i filistei giù e c'è la striscia di gaza è guarda casa anche oggi i problemi a israele più che altro venga dalla siria è lì alla striscia di gaza è cioè dalla siria e palestinesi per intendersi il motivo era della guerra con gli aramei era il controllo della ricca zona di galad che sarebbe spero tutti che sarebbe questa qua che sto c'è infatti qui dentro c'è scritto ramot di galat qui ora qui non so se il voi a casa lo vedete qui dove sto passando ora il pallino c'è il fiume yabok e questo fiume l'è importante quindi praticamente per il controllo di questa zona qua aramei e israeliti hanno fatta botte per quasi più di un secolo qui c'è il fiume yabok che ora faccio una parentesi via così vi sollevo un po l'anima e lo spirito io la prima volta che ho sentito parlare del fiume yabok l'avete mai visto voi quell'episodio di alberto sordi di dentone eh che infatti eh l'avete mai visto no no alberto sordi fa probabilmente è impersonale un personaggio c'aveva dei denti in maniera sì e lui aveva fatto il concorso per fare il presentatore l'annunciatore telegiornale alla televisione soltanto con quei denti capito con quei comunque però questo è un posto di scienza quindi la commissione cerca di far tutto per stroncarlo no per per tagliargli le gambe insomma per per questo però è un posto di scienza e sa tutto e supera tutte le prove quando arriva all'esame orale che vi mette agli altri gli fanno tre domandine sceme sceme li manda a lui li fanno li fanno e gli domandano a un certo punto quali sono gli affluenti di destra e di sinistra del giordano del fiume giordano e lui gli ridice tutti citando anche il fiume Yabok e lì mi rimase in mente questo Yabok quindi la commissione si alza eh dicono tutti eh no perché il fiume Yabok è in Giordania eh quindi che lui con i suoi dentoni che guardi che vanno alla cartina no guardi qui eh che lui con il suoi dentone ride e fa dice di quando è la cartina eh e fanno vanno a vedere la data del millenovecentocinquantasette eh dice lui ma con la guerra dei sei giorni Israele ha conquistato anche quella parte là quindi lo Yabok è è un fiume israeliano così e poi l'episodio finisce lui si vede alla televisione a annunciare il telegiornale perché non sono riusciti a farlo fuori ecco la prima volta che ho sentito nominare questo fiume Yabok affluente del giordano allora eh ritorniamo però a noi no ho fatto questa parabola forse ho risvegliato un po' chi stava chi si stava addormentando allora eh qual è qui il problema ora come dicevo all'inizio qui non si parla di di mietiture e di cose agricole eh questa metafora è una cosa molto triste perché si accusa l'esercito arameo eh praticamente di 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 un'uccisione indiscriminata delle delle popolazioni sconfitte cioè che si è fatta veramente una piazza pulita una sorta di pulizia etnica no la si chiamerebbe oggi quindi è la cosa veramente molto grave effettivamente sembra che poi anche a e gli aramei saranno deportati e sembra appunto gli assiri poi quando arrivarono e conquistarono poi anche Israele col tempo però i primi a far fuori e furono proprio gli aramei poi due ecco qua giù Gaza e Filistei sono qua giù appunto nell'odierna striccia di Gaza che vedete ora qui piccolino non so qui c'è Gaza qui c'è Ascalon che oggi mi sembra si chiama Ascalona e Asdodo non so se c'è ancora oggi sicuramente quindi tristemente sono insomma nomi tristemente noti anche oggi perché fanno parte appunto della famosa striscia di Gaza così dice il signore per tre misfatti di Gaza e per quattro non rivocherò il mio decreto di condanna perché hanno deportato popolazioni intere per consegnarle a Edom manderò il fuoco alle mura di Gaza e divorerà i suoi palazzi sterminerò chi siede sul trono di Asdod e chi detiene lo scettro in Ascalon rivolgerò la mia mano contro Ekron e così perirà il resto dei Filistei dice il signore allora qui molto probabilmente l'accusa riguarda quegli schiavi vedete Edom è di qua lo vedete dove c'è il numero quattro poi dopo ce ne sarà anche per Edom però eh molto probabilmente l'accusa riguarda quegli schiavi fuggiti da Edom che cercavano rifugio o in Giuda o dai Filistei e invece i Filistei che hanno fatto li hanno presi e li hanno riconsegnati agli Edomiti perché gli Edomiti avevano bisogno di schiavi ora vi potete immaginare la riconsegna di uno schiavo che era fuggito come sarebbe stato accolto eh quindi questi poi dopo gli facciano la pelle se tant'è vero che il libro del Deuteronomio vieta la riconsegna nel Deuteronomio 23 16 c'è scritto non consegnerai al suo padrone uno schiavo che dopo essergli fuggito si sarà rifugiato presso di te che è comprensibile la cosa no invece questi che fecero praticamente gli ripresero e gli rimandarono ah sì qui c'ho scritto vabbè si citano quattro importanti città della regione che anche oggi noi chiamiamo la striscia di Gaza e abbiamo conosciuto i Filistei ah i Filistei questi forse sono i più famosi no perché con Davide eccetera sono è stato il primo nemico storico di Israele tiro e la fedi e la fenicia quassù numero tre l'odierno Libano sarebbe così dice il Signore per tre misfatti di tiro e per quattro non revocherò il mio decreto di condanna perché hanno deportato popolazioni intere a Edom senza ricordare l'alleanza fraterna manderò il fuoco alle mura di tiro e divorerà i suoi palazzi ora con questo terzo oracolo bisognerebbe aprire una parentesi perché un lettore attento forse si potrà accorgere che c'è qualche diversità rispetto ai precedenti oracoli ritorno indietro ad esempio non c'è la finale dice il Signore che c'è in tutti gli altri poi anche qui si parla di hanno deportato popolazioni intere a Edom però insomma ora i fenici fassù a Edom qua giù e la vedo la vedo un po' dura la cosa poi se leggete il versetto 10 manderò il fuoco alle mura di tiro e divorerà i suoi palazzi è tale e quale il versetto 7 manderò il fuoco alle mura di Gaza e divorerà i suoi palazzi praticamente il terzo oracolo sembra quasi un copia e incolla del secondo allora parentesi ora vi e facci picca l'esegeta così vi spiego un po' anche come come ragionano gli esegeti quindi io non vi c'è qualcosa intorno ora molto chiaramente che sarà una parte aggiunta dopo allora ripeto un concetto fino a essere noioso ovviamente le prove provate al cento per cento non sono sono supposizioni però ripeto fino alla noia l'ho già ridetto questo concetto ma lo ridico perché non voglio che qualcuno si scandalizzi dire che un testo ha subito dei rimaneggiamenti non è uno scandalo e non è una bestemmia perché era nello stile del tempo faccio un esempio forse più famoso forse tutti voi saprete ad esempio il libro di Isaia in realtà sono tre libri sono tre raccolte ormai questo è una cosa comunemente accertata no si parla di un primo Isaia di un secondo Isaia e di un terzo Isaia cioè molto probabilmente i disce ammesso che la prima parte l'abbia davvero composta Isaia molto probabilmente dei discepoli di Isaia hanno pensato di continuare l'opera del maestro ritenendosi in sintonia con quanto il maestro diceva e prima usava nel far questo firmarsi con il nome del maestro faccio oggi per noi sarebbe sarebbe placio oppure sarebbe sarebbe è come se per dire no io mi mettessi a scrivere qualche cosa e poi lo 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 firmo dopo Stefano Livi e lui mi telefona dice ho diretta ma perché t'hai pubblicato delle cose a mio nome senza io ne sapessi nulla oppure magari prendo un suo scritto lo 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 rimaneggio lo lo scifo delle aggiunte eccetera eccetera e poi lo pubblico col nome di Stefano Livi lui vorrebbe dire cioè per noi oggi questa è un plazo eppure è una cosa scorretta a quei tempi no era una cosa comune che i discepoli continuassero l'opera del maestro e firmassero con il nome del maestro ecco perché quindi molto probabilmente non sarebbe uno scandalo se alcuni discepoli di Amos avessero ripreso degli scritti del loro maestro magari li hanno un po' rilessi insieme hanno fatto delle piccole aggiunte e hanno un po' risistemato il discorso non ci sarebbe niente di scandaloso qui molto probabilmente io ho scritto appunto no questo ve l'ho detto infatti sembra la fotocopia dell'oracolo precedente contro i filisteri difficile pensare a rapporti tra i domiti laggiù in fondo e finisci lassù in cima questa alleanza fraterna potrebbe riferirsi a un patto o a un'alleanza tra i due popoli nel linguaggio diplomatico dell'Oriente i contraenti venivano anche chiamati fratelli allora poi dopo io ho scritto questo l'ho scritto io è una mia idea può darsi che sia sbagliato può darsi che non siano stati trovati misfatti gravi compiuti dal popolo fenicio anche perché fenici erano navigatori insomma insomma stai grandi ma il disegno dell'autore è quello di far rientrare tutti i popoli almeno quelli confinanti in un complessivo giudizio da parte di Dio in cui nessuno rimane escluso quindi in un certo senso Amos o qualche suo discepolo ha detto no cioè più che far emergere diciamo la singolarità delle colpe e qui l'autore vuole emergere che il giudizio di Dio riguarda tutti i popoli non qualcuno in particolare anche qui se vi ricordate Stefano dimmi se dico bene nella lettera romana quando San Paolo evidenzia i peccati dei pagani e degli ebrei e a un certo momento dice Dio ha rinchiuso tutti nel peccato per poter usare a tutti misericordia ho detto bene è vero ora non è che che Amos avesse pensato però un po' la linea è questa forse si vuol dare l'idea che il Dio ce n'ha per tutti e tutti hanno bisogno di convertirsi nei confronti di Dio non c'è il popolo ganso o il popolo perfettino perché qui effettivamente è della copia del anche il quarto oracolo su Edom vedete anche qui manca la finale dice il Signore qui cosa dice ecco gli edomiti sono qua giù vedete così dice il Signore per tre misfatti di Edom e per quattro non rivocherò il mio decreto di condanna perché ha inseguito con la spada suo fratello e ha soffocato la pietà verso di lui perché la sua ira ha sbranato senza fine e ha conservato lo sdegno per sempre manderò il fuoco a Teman e divorerà i palazzi di Bosra vedete anche questo oracolo come il precedente è un po' più impreciso non si colpiscono con nome e cognome i regnanti quindi molto l'elemente il terzo oracolo e il quarto può darsi se è un aggiunto posteriore di un discepolo e non c'è la fiù allora lì ho scritto all'inizio il rapporto tra israeliti e edomiti era buono come testimonia Deuteronomio 23,8 non avrai in abominio l'edomita perché è tuo fratello ora perché gli edomiti sono fratelli erano considerati fratelli perché secondo la tradizione Esau avrebbe dato origine al popolo edomita ecco perché ben o male era considerato all'inizio quasi un popolo fratello Giacobbe poi verrà la discendenza agli israeliti Esau ben o male un popolo fratello e che è successo poi i rapporti si sono deteriorati dopo l'attiva collaborazione di edom all'occupazione e alla distruzione di Gerusalemme cioè praticamente e fecero aprirono le porte all'esercito assilo come riporta il libro di Abdi a versetti 10-14 ora io se un Vitedia si possano andare anche a leggere questi versetti se no magari ve li leggete da voi che dite Vitedia le colpe di Edom a causa della violenza contro Giacobbe tuo fratello vedete si riprende Giacobbe tuo fratello la vergogna ti coprirà e sarai sterminato per sempre anche se tu stavi in disparte quando gli stranieri ne deportavano le ricchezze quando i forestieri entravano per le sue porte e si spartivano a sorte Gerusalemme ti sei comportato proprio come uno di loro non guardare con gioia al giorno di tuo fratello al giorno della sua sventura non gioire dei figli di Giuda nel giorno della loro rovina non spalancare la bocca nel giorno della loro angoscia non varcare la porta del mio popolo nel giorno della sua sventura non guardare con compiacenza la sua calamità non stendere la mano sui suoi beni nel giorno della sua sventura non appostarti ai crocicchi delle strade per massacrare i suoi fuggiaschi non fare mercato dei suoi superstiti nel giorno dell'angoscia quindi voi mi capite bene dopo questo episodio invece gli edomiti diventeranno invece i rapporti degli edomiti saranno problematici dopo l'attivo come riporta il libro di Abdiah questo episodio quindi e poi insieme alla susseguente occupazione della parte meridionale di Giuda portarono ad un profondo odio verso edom nei testi posteriori dell'Antico Testamento edom poi non si limitò a fare questo ma invase la parte sud di Giuda ora questo riguardava i regni quindi i rapporti con gli edomiti si Ammon così dice il Signore per tre misfatti degli ammoniti e per quattro non revocherò il mio decreto di condanna perché hanno sventrato le donne incinte di Galad per allargare il loro confine darò fuoco alle mura di Rabbah e devorerà i suoi palazzi tra il fragore di un giorno di battaglia fra il turbine di un giorno di tempesta il loro re andrà in esilio egli insieme ai suoi comandanti dice il Signore qui si riprende lo schema dei primi oracoli Ammon gli ammoniti e sarebbe l'odierna Giordania tra l'altro Rabbah sarebbe l'odierna Amman che ora qui si legge male che sarebbe qua anche qui come per Damasco il crimine di guerra è veramente grave non mi importa che entrano particolari quindi un crimine avvenuto nei confronti della sempre della misera popolazione di Galad questa volta similmente a sud dello Yabok quindi gli aramei pensavano di entrare e entrarono fino a Galad fino a nord dello Yabok a sud ci avevano gli ammoniti sei Moab così dice il Signore per tre misfatti di Moab per quattro non rivocherò il mio decreto di condanna perché ha bruciato le ossa del re di Edom per ridurle in calce manderò il fuoco a Moab e divorerà i palazzi di Kriot e Moab morirà nel tumulto al grido di guerra al suono del corno eliminerò dal suo seno chi governa ucciderò insieme con lui tutti i suoi principi dice il Signore ecco qui secondo l'oracolo i Moab ti devono aver commesso qualche cosa di grave e di sacrilego nei confronti del re di Edom probabilmente si tratta di un accanimento sul cadavere del re arrivato addirittura arrivando a sbriciolarne le ossa a macinare le ossa come gesto di massimo disprezzo ora io qui ho notato quello riprenderò dopo qui si capisce bene che Amos non si occupa soltanto dei crimini di guerra commessi contro il suo popolo ma fa capire che la giustizia di Dio agisce anche nei confronti di tutti perché qui il problema è tra Moabiti ed Edomiti no qui Israele non c'entra nulla Dio non è il difensore di un popolo è il difensore dell'umanità io ho buttato la quattro conclusioni ora poi io queste slide io le metto sul sito della parrocchia quindi le potete anche riscaricare rileggere perché magari la prossima volta quindi venerdì facciamo un pochino delle considerazioni aspetto anche le vostre considerazioni su questi temi che purtroppo possano diventare anche temi di attualità anche oggi no e si parla di crimini di guerra no Putin e compagnia Bell e quindi come abbiamo appena visto Amos ci presenta Dio non come il difensore di un popolo ma come il difensore dell'umanità la sovranità e la giustizia di Dio vanno oltre i confini di Israele in questo senso Yahweh non è solo il Dio di Israele ma è il Dio di tutti i popoli come sottolinea il commento della scheda che avrete lì da qualche parte la malvagità non ha bisogno della Torah o del Vangelo per farci capire che è inaccettabile purtroppo simili malvagità soprattutto in ambito bellico continuano a perpetuarsi fino ai nostri giorni questo testo è un monito per noi e soprattutto per i governanti per i capi delle nazioni che proprio per la funzione che svolgono hanno delle gravi responsabilità nei confronti di Dio e dell'umanità intera quest'ultimo aspetto che abbiamo sottolineato è importantissimo Amos come abbiamo visto distingue bene tra i governanti e la popolazione non possono essere messi sullo stesso piano invece noi talvolta facciamo l'errore di giudicare un intero popolo per le colpe di un suo governante ora per dire no i russi rischiano di entrare in tre carne perché c'è Putin che lei è sanguinario però qui bisogna distinguere tra il popolo russo e il suo comandante oppure se vi ricordate all'inizio della pandemia quando ancora noi non c'era ma si sapeva già venire dalla Cina dalla Cina e facevano già la caccia ai cinesi anche anche qui a Firenze ci sono stati dei cinesi che furono insultati e che c'entrano cinesi dalla pandemia io intanto ho buttato là queste quattro poi ripensateci anche voi perché insomma ora credo che questi questi primi sei oracoli un po' non ci danno anche materiale perché ripeto purtroppo rientrano anche in tematiche attuali vedete questa poteva essere una quinta mi viene in mente vedete come purtroppo le cose brutte che le guerre ci danno e rimangono non c'è mai un superamento delle atrocità nella guerra e questo ci fa pensare talvolta ci si domanda che l'umanità va avanti cresce però per quanto riguarda l'odio la guerra la violenza la sete di potere davvero da una parte sembra che non si faccia nessun passo avanti terminiamo con questa preghiera quindi ci riserviamo per venerdì prossimo quindi venerdì rifacciamo l'incontro e magari ripensate voi un po' a queste cose a quelle ho detto io rimetto le slide sul sito della parrocchia asomai a te te lo farò avere se comunque se non riescano a scaricarlo te lo mando a te eccetera eccetera e poi magari venerdì un po' ci ragioniamo sopra va bene e allora terminiamo con questa preghiera nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo Amen Grazie e vi benedica Dio Onnipotente Padre e Figlio e Spirito Santo Amen benediciamo il Signore benediciamo grazie a Dio allora via fratelli bene anche te vai vi salutiamo tutti no abbassati giù ecco così vi salutiamo tutti vi saluto anche Dostefano grazie ciao grazie ho sbagliato appicciare via buonanotte a tutti buonanotte a voi grazie